Morte di Irene Sauro, la procura emette due avvisi di garanzia per i conducenti. Con l'accusa di omicidio stradale, il PM della procura di Siracusa ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del medico 55enne che era alla guida della Mercedes CLK, compagno della 39enne Irene Sauro. L'uomo alla cui guida in una curva nei pressi dello svincolo autostradale per lentine per causa da accertare si è impattato con un mezzo pesante che trasportava arance. La donna è morta, l'uomo ha riportato varie fratture al corpo e si trova ricoverato al reparto di ortopedia del Policlinico di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita. La procura ha emesso un secondo avviso per il conducente del mezzo pesante, un autotreno che trasportava arance e quella notte del 22 dicembre si trovava a transitare sull'autostrada Siracusa-Catania dove ha perso la vita Irene Sauro, 39 anni. Vanno avanti le indagini delle forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità del conducente, dell'auto articolato. I funerali di Irene Sauro si sono svolti a Leonfort, il luogo di origine della donna, in provincia di Enna, ma residente ad Augusta. Una donna ricca di talento aveva ottenuto un dottorato di ricerca all'Università di Catania e nel 2015 era stata eletta con una lista civica al Consiglio Comunale di Augusta che sosteneva la candidatura di Nick Paci. Era stata candidata alle ultime regionali nella lista popolare e autonomisti di idea Sicilia. Adesso la procura farà le dovute indagini per individuare i presunti responsabili che hanno causato l'incidente mortale con i verbali della Polizia Stradale di Siracusa e del personale ANAS.